o ricettina di giorno oggi andremo a fare andremo andremo a imparare i famosi pici all'aglione tipici di siena senese un piatto senese osso che montava uppegliate la lettiera di gatto e pugli scolare dentro questa è la prima fase vi vedete questa tipica ragazza sienese vedete il condimento non può mancare il famoso condimento la salsa all'aglione ma andiamo a vedere come come si fa coso andiamo a riversagnene dentro questa ciotola questa diciamo la lettiera di gatto precedentemente risciacquata gli si è andata una risciacquata un po dopo ci si butta sassi dentro allora vedete questa è la famosa crema all'aglione di siena da non imbrogliassi o famosi pici all'aglione d'agliara che gli hanno un'altra cosa un mescolamo la merda o la cioccolata gli hanno due cose distinte separati ma vedete questa ragazza sta a norma a norma di gene con la bocca aprire queste bustine quel famoso sugo ma vedete un quale classe osso gliene va a rimestagnere vedete che classe ragazzi questa sa lei sa non c'è che si provi un aretino osso a fare i pici alla senese non gli riesce hanno provato a fargli osso gli ci provano ma gli hanno fatto un trogolaio un trogolaio di arezzo gli hanno fatto che si provi un odorezzo a andare a siena a fare i pici un di riesce vedete che bontà guardi solamente questa scena di questa giovane ragazza sienese mi figlia e mi fa venire la collina in bocca osso che che bontà vedi gli scola tutto nelle gambe nel vestito gli si impregna tutto il sughino il sughino addosso nel tavolo nel dappertutto vedete queste tipiche bacchette sienesi per pigliare appunto fischi come si pigliano solo a siena solo a siena